vai tu Stefano io non l'ho vista come cazzo è? non l'ho vista dov'è? andiamo non l'ho vista è sottosso piano piano aiaiaiai è ora di cambiare le gomme è ora di cambiare ma l'ho fatto a posto l'ho fatto verso il troppo ma mi ha fregato il davanti figaro se è stretta ragazzi figaro è stretta è stretta cambiare la gomma non l'ho fatto a piedi vedi fai perché sono in seconda cazzo signor non è l'ho vista non sa seconda cazzo non si è distante avvado vedi 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 ma non c'è ma che bastarda devo cambiare la bomba via davanti non c'è verso non devi farla fungare? va via davanti io alzala alzala non farla fungare ma non riesco a vedi che se la tiri su vai ho capito ma non chiede un cazzo tu vuoi che te che potrongo qua? tira devo stare in mezzo stare in mezzo è seconda ma la mia si spegne quando fai così bravo mi sa che perché poi io cerco di allargare invece ti frega no bravo quantître guardando 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 guardare guardando guardare guardando Grazie a tutti.